La nostra azienda si occupa principalmente di bonifiche di amianto, pertanto in effetti noi presentiamo la nostra azienda e ciò che facciamo, non vendiamo niente, in effetti offriamo un servizio al cittadino e agli enti pubblici, appunto ci occupiamo di rimozione, trasporto e smaltimento amianto. La nostra attività oggi è un obbligo per il cittadino poiché la legge 277 del 92 obbliga tutti i cittadini ad intervenire nel caso di presenza amianto nelle proprie abitazioni e nell'ambito pubblico. Interveniamo ovviamente alla chiamata, siamo presenti su pagine gialle e su vari giornali, pertanto chi ha bisogno di noi sa dove cercare, basta scrivere bonifiche amianto sul sito web e ci trova.